Ti servono adesivi per la tua fantastica collezione di Monopoly Go? Ecco il sito che fa per te, buymmog.com Sotto in descrizione ti lascio il link E adesso vi spiego nel dettaglio come funziona Andate sotto, andate su Monopoly Go Ed eccoci qua Troviamo tre sezioni Dice che sono i dadi, dove ci sono fantastiche offerte per dadi Partners, events, eventi collaborativi E poi stickers Mettiamo il caso che mi serve un adesivo da 5 stelle Schiaccio sopra su buy now Viene inserito automaticamente all'interno del carrello Ed ecco qua che entra in gioco il codice sconto del vapore Inserite vapore e schiacciate il tasto apply Guardate cosa succede Prum ragazzi Pum Sconto del 10% Bello goloso Quindi mi raccomando attivatelo Qua inserite tutti i dati nella parte a sinistra E poi mi raccomando controllate il metodo di pagamento adatto Le carte arrivano nel giro di poche ore Buymmog.com Per maggiori informazioni nei commenti E sotto in descrizione c'è l'incozzo Allora che cosa andiamo a fare oggi? Oggi andiamo a vedere l'evento che tutti aspettavate Tesori della giungla Un evento molto simile a Tesori della luna Tesori egizi Che come sapete ormai abbiamo masterato alla grande E che è appena iniziato Perché io sapevo già della notizia Dell'arrivo di questo evento Ma non vi avevo ancora detto niente È iniziato proprio alle 14 di oggi E questo è il pop up che ci viene interno al gioco Unisciti a Sofia in una nuova avventura Aiutala a recuperare antichi tesori E vinci premi favolosi Schiacciamo il tasto andiamo Ed ecco qua che sono ritornati i picconcini Ragazzi sono tornati i grandi picconi E adesso vi faccio vedere nel dettaglio Come funziona per andare anche A capire come si può scalire più velocemente E cose di questo genere Con i 4 picconcini come sapete si può sempre andare a scolpellare velocemente Sopra il nostro diciamo pezzettino grigio molto molto carino Ci si schiaccia sopra Ci prendiamo subito il barattolino d'oro Sempre bello goloso E via Tesori trovati con la cassa verdognola La cassa verdognola che cosa ci dà? 25 dadi e 2 picconi 25 dadi e 2 picconi Che servono naturalmente poi per andare nello step 2 I step in totale sono 20 ma li andiamo a vedere nel dettaglio dopo Adesso andiamo a vedere un attimo cosa è successo all'interno del mio profilo Ringrazio i ragazzi che hanno accettato eventualmente scambi e cose di questo genere Siamo sempre stati molto molto attivi nel periodo attuale Andiamo ad aprire il forziere della comunità Che come sapete mi rimane sempre un po' sul groppone Perché lo lascio sempre accumulare soldi Ma poi alla fine bisogna andarlo a riscuotere Perché non è che rimangono lì a vita questi soldini Quindi per 3 andiamo avanti Andiamo del regalino nel chilling 5 dadozzi Andiamo avanti con un altro per 5 Bello il per 5 Vamos col per 6 Niente Esce la chiavettina con 19.600.000 Prendiamo tutto Come si fanno ad ottenere i picconi? Iniziamo subito con le prime regolette Tira una volta Sono 5 dadi Quindi schiacciate subito 5 volte Il tasto per tirare il dadino E adesso vi faccio vedere che succede Pum Siamo a 3 Schiacci la quarta Adesso non salti neanche nella stazione Scudettino E via Questa qua è la quinta Guardate che cosa capita una volta che schiacci 5 volte Vabbè A parte la distruzione che vabbè è stato letteralmente un caso Che me la son chiamata così fortemente Schiacciamo a caso perché intanto È abbastanza Diciamo Non interessante se funziona o meno questa cosetta qua Ecco qua Missione Tira sopra per tirare 5 volte 18 milioni Il 4 picconcini Vi dico già che la terza missione è quella che dà più di tutte La seconda ne dà mi sembra 6 E la terza ne dà 8 Quindi è comunque interessante andare eventualmente a sbloccare le missioni Perché qualche piccone te lo danno Con i picconi cosa si fa? Come al solito si vanno tranquillamente a sbloccare i prossimi step Schiacci qua sopra L'obiettivo è molto semplice Trovare i 3 oggetti contenenti nel cassettino rosso sopra Abbiamo quindi 2 barattolini Io li chiamo E una colonnina Schiacciamo ad esempio qua No? Vedi che te ne c'è uno Schiacci poi a destra Schiacci da qua Schiacci da qua E con 4 picconi Un marmocchietto te lo sei fatto È un po' stile battaglia navale È abbastanza palese il fatto che Nella parte superiore non ci possa essere una seconda parte Quindi vai randomico Caso strano Stavolta è nata di fortuna Ho tirato 2 picconate 2 picconi Ho preso un altro oggettino E siamo al secondo Per andare avanti col terzo I picconi si possono ottenere in varie metodologie Vi consiglio fortemente di entrare come al solito Anche all'interno del solito negozio Perché comunque nel negozietto Schiacciando il tasto gratuito Escono fuori i picconcini sempre bollenti Sempre 2 Che comunque ragazzi Con 2 picconi Uno si potrebbe creare tranquillamente un qualcosa Ricordo che questo evento collaborativo qua È fondamentale per svolgere la missioncina Dei tesori della giungla Andate a sbloccare i dadini Vi ricordo proponetemi degli scambi di adesivi Se qualcuno di voi vuole Io ho degli scambi da fare Me li proponete Io vi do in cambio Le mie carte A proposito di cambi non cambi Voglio andarvi a far vedere gli adesivi Che mi mancano in questo momento Li scorro velocemente Dal 3 al numero 21 In modo tale che li possiate vedere tutti Sono veramente veramente tanti E veramente veramente numerosi Devo dire la verità Sono anche contento di come sta andando In generale La crescita del mio profilo di Monopoly Go Sempre belli focus Sempre belli attivi Con questi soldini che abbiamo Di 89 milioni Andiamo tranquillamente a ripotenziare Le vecchie precedenze Degli edifici E li togliamo velocemente Ricordo buy MMG qua sotto Per chi vuole comprarsi gli adesivi Perché mi raccomando ragazzi Vi ricordo che c'è una grandissima ricompensa Sul gruppo Telegram Monopoly Go News Un gruppo Telegram che io tengo sempre molto molto aggiornato Sapete che mi piace parlarci a riguardo Esce questo messaggio Nella giornata di ieri Domani 22 gennaio alle ore 14 In arrivo tesori della giungla Utilizzate il piccone La lente di ingrandimento Per questo nuovo minigame Bisogna naturalmente Non completare velocemente L'evento Ma conservare Minuziosamente I picconi Poiché una volta completato Si trasformano in dadi Ogni piccone Sono tre dadi Se qualcuno di voi Non vuole completare l'evento Può tenersi i picconi da parti Ragazzi Guardate un po' Tre dadi Ogni piccone Immaginate averne 100 Sono 300 dadi Not bad La ricompensa qual è? 2500 dadi Nuova pedina E ve la faccio subito vedere Qual è la nuova pedina Succulenta Ma non troppo E poi ragazzi Guardatela qua sotto E poi il solito pacchettino D'adesive Oltre ai soldi Il pacchettino d'adesivi Che è un pacchettino d'adesivi Completamente rosa Con dentro appunto La possibilità di ottenere Sicuramente Almeno una carta 5 stelle La pedina in questione È questa qua Vedete che qua ci sono tutte le ricompense Delle quali stavamo parlando Tutte cassettine inizialmente Poi 150 dadi 175 250 350 450 450 275 Insomma sono 20 step Fate attenzione Perché poi più andate avanti Più picconi dovete avere Cercate di giocarlo L'evento non è scam Come quelli collaborativi Vi faccio vedere comunque Per chi è magari Nel dettaglio L'evento Stelle scistiche Quali sono le ricompensine Ci sono nell'evento sliding Le fantastiche Eventi picconi Quindi se voi volete Scalare veramente tanto Andate con moltiplicatori E con i picconcini Raga Ne sbloccate veramente Veramente tanti Questi sono soltanto Mi sembra all'uno Mi sembra soltanto all'uno Quindi Ragazzi Dovete andare belli Belli potenti Perché non voglio Non voglio scusanti Altri messaggi riguardo A tesori della giungla Era arrivato invece Il 20 gennaio Quindi due giorni prima Dell'inizio dell'evento Questo arrivo qua Ma in realtà Niente di più Poi ci hanno specificato Nel dettaglio Altre informazioni Insomma Tesori della giungla Sembra essere promettentissimo Io vi ricordo Di passare qua sotto Per buymmog.com Like Iscrizione Attivazione della campanella Qua trovi i tutorial precedenti Ti aspetto su twitch E tiktok In live tutti i giorni Link sotto In descrizione Ciao belli 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 Ciao belli